L'amministrazione comunale, nell'ottica di semplificazione delle procedure per gli adempimenti relativi alle imposta di soggiorno, da quest'anno metterà a disposizione delle strutture ricettive di tutti i titolari di mobili locati per finalità turistiche, il software PayTourist. Già utilizzato da diverse località turistiche italiane, lo stesso è di facile uso e comprensione, non necessita di installazione, ma utilizza infrastrutture in cloud e raggiungibile tramite web browser, anche da dispositivi mobili. Tra le funzioni incluse nel software vi sono calcolo automatizzato dell'imposta, dei soggetti e dei pernottamenti per tipologia di struttura, gestione delle dichiarazioni dei pagamenti online, generazione della schedina di pubblica sicurezza, oltre a generare i file ISTAT in base alla regione. Nello stesso tempo agevolerà l'ente nelle operazioni di contrasto alle tipologie di evasione, di illusione dell'imposta di soggiorno in quanto permetterà all'associazione delle strutture con le relative inserzioni online, anche tramite geolocalizzazione. Il software è in grado di compiere il censimento delle inserzioni online, con scansione ed analisi dei dati estratti sui principali portali online. Giovedì 23 maggio, presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli, si terrà infatti un incontro di formazione per l'utilizzo del software. Alle ore 11 ci sarà la prima sessione dedicata agli alberghi, villaggi, campeggi, agriturismi, aree di sosta e camper. La seconda sessione invece avverrà alle ore 16 e 30 e riguarderà i affittacamere, country house, case vacanza, case religiose e di ospitalità. Si ricorda che il pagamento dell'imposta di soggiorno è vigente nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre. Le tariffe sono invariate rispetto allo scorso anno. Mettiamo a disposizione degli operatori turistici, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutali Passi, un software utile e comodo per il calcolo e il pagamento dell'imposta di soggiorno. Nel contempo si punta con lo stesso di tutelare le strutture regolari contrastando quelle che invece operano in nero.